Wow! Grandi Amici del TUVO! Siamo tornati con il TREVOR dopo un po' di tempo che non era presente LORB THREVOR dei Sith Siamo qui oggi in due con un joystick solo come avete visto nel titolo non sarà una gran sorpresa Siamo qui per giocarci due partite Poi se quittano, se quittiamo noi Vediamo come va, magari anche tre Non lo so Anche cinque Ci cambieremo di posti durante la partita Quindi se ci vedete scambiati è per il fattore tasti adesso Ok, la prima squadra che andiamo a utilizzare ragazzi Sono i Miami Heat Non per niente Le abbiamo scelte, casuali sono venuti C'è il buon B.O. Waiters Idolo indiscusso del Trevor Ne facciamo far 50 Detto questo cominciamo con la prima partita Speriamo bene In teoria non dovremo trovare squadre forti Al momento io ho i tasti e lo sprint E lui ha tutto il resto Subito la palla a due Allora, piano, passa la Dragic Allora hai tu il pick and roll Bello Bello Dion, è il tuo momento Sì, così Il go to guy Ebbene, ma chiaro Ci dobbiamo andare da lui Tira Sì, vai mandato signori Cinque e quattro Tor dentro Cosa? Oddio Angolo, angolo, angolo Perfetto Che schema signori Che Di capato Per il 9 pari Via 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 tutto 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 Slaccia Tutto Tutto Johnson Viaggia Sembra un wrestler Tyler Johnson In realtà Super Così Oh Bello 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 Con il pick and roll Ci siamo Sì Così Bello Sì Così In sterofonia In sterofonia In sterofonia Tira Benissimo La Waiters la mette Che foe Dobbiamo fidarsi più di lui Lo stiamo coinvolgendo poco Te vuol venire in su Guarda dove te sono Oh Ah sono laggiù Eh non so Ma dai Oh Non dormire Ma dai Se poteva tranquillamente Non c'è Orta Scherz Dai 7 secondi Diamo la Waiters qua Ci appa qua Via via Tutto 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 Vuoi Sai Bello Sì Così Dai 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 Meno 5 Imitato i danni Li facciamo noi 25 e 20 l'intervallo Adesso cambiamo posti Ok Si riparte Cambiamo Mettimi i draghi Cesar Bravo Bravo Ma Waiters Tutto 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 Dio 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 Che ton de F*** E' Lilo Christopher Eh Te devi darla lui Te devi darla lui Te devi darla lui Sì Eh no Questo no No dai Cosa fa No Era un po' un tiro alla Waiters Questo E' Madonna Bellissimo Tutto Tutto Ti te la fa Non è fatta Bravo Tiro libero Del vantaggio Signori Buono direi Si così Zai 1 a 30 Primo vantaggio Dopo il 5 a 2 Vorrei sottolineare Se non sbaglio Ma adesso Non la molliamo più Questo 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 Stoppilo Te prego Uh La chase down Di Christopher Via via Con Draghi Tutto 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 Ehm Gorando Draghi Più 3 Signori Questo è l'induan Più incredibile Della storia Quella da sotto S'è entrata Per il più 4 Per chiudere il gioco Da 3 punti 3 4 3 0 Mamma mia Se gasembo Non sappiamo canestri Ve prego All'ultimo secondo Fanculo Mi cazzo Vabbè 3 5 3 4 Fine Terzo quarto Adesso It's time to shine Quarto quarto Signore Dentro 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 Schiaccia Si va benissimo Anche l'appoggino Contro Sarpasso 3 6 3 5 Il cambio Palma Questa partita Bisogna mettere Due per due Possessi di vantaggio Occhio Che è partito Ehm Ecco Provai Intercettato No Perché Scusa Ma cosa Ma dai Ma dai Vabbè Vabbè Meno mai Che abbiamo segnato Noi Perché Vabbè No Si meritiamo Tre schiacciate Adesso Cioè Dai Cos'era Quel canestro Lì Con Draghi Il dragone No Eh no No Dove è andata Si no No Infatti Bella Bella Siamo lì Siamo lì Siamo lì Ehm Non siamo più lì Ognuno Dai E qua Semmo nella merda Tipo non come Questo pick and roll Invece In qualche maniera Si Oh Quale vale Adesso Vai Tira un libro Con quei sai Dai Impossibile Oddio Oh Non si sa come A me ne ho tre Scatta De là Dove Ecco Adesso Adesso Passi De là No Vediamo provato E va bene No Perché tu dovevi Stac Scattar No Cristo Vabbè raga 5146 La prima Adesso proviamo a fare Ancora una Per vincere un'altra Parita Comunque Ce la siamo giocata L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto La nostra La nostra Porca figura Ok Signori Per la seconda parita Squadra Casuale Ci teniamo il bonus Di poter Skippare Toronto Raptors Cambiamo Si cambia Uh Cleveland Kass E Cleveland Kass Sia Dai Signori Al Verizon Center Per le finale di conference 2016-2017 No Probabilmente no Ma non si sa Insomma Palla 2 Abbiamo uno squadrone Adesso Quindi Le scuse Perché ogni volta Dobbiamo cominciare a prendere così Cos'è successo? Passi Io ho premuto Che erano passi Ma dai Ma dai Ogni volta così Devi cominciare a partire Che coglioni Come hai visto Tra un po' No perché Pensavo Bellissimo Edouard Edouard Signori Ci sono partiti i carichi Questa partita 4 a 0 Lebron Cazzo Non avevo visto dopo Gesù Senti a 0 Raga Ultima azione del primo quarto Signori Ovviamente siamo andati Sotto Nell'ultimo minuto Perché è di sì Fermo Ciao Picaroy Va bene Ciao No perché Tira da destra No Lui deve far Così Da sinistro Ma va 12 a 11 No in ultimo minuto Si implode il cervello Va bene Te devo di Ok Tornato Irving Secondo quarto On the way Sapevo Sapevo Scemo Scemo 13-12 No Gatta e fallo No 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 Sta storia Di andare contro La gente Dio 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 Ma da quattro falli Irving Cristo Santo L'unico che sa Far qualcosa È sta squadra Dio Santo Si Dentro con la moto Va bene Anche così Però E Schamper segna Quei trilli E Lebron No Vabbè Dai Vabbè 21 pari Al fine primo tempo Cambio posti Dai Si riparte Secondo tempo Perfetta Così Angolo Si perfetta Perfetto Oh Oh Questo Da cazzo Di una difesa Da clima Anche a vai Da titolo Guarda che Lebron Il partito Il treno Merci Perca Puttana Perché sempre Quei sbagliati Perché sempre Quei sbagliati Perché devi indirizzarti Il passaggio Ma frevi il tastino Amico mio Di un po' Oh bravo Tutto 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 Forse No No Si 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 Devi indirizzare Il passaggio Posso tirare E l'angolo Tiro 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 Che c'è questo? Arjay Dall'angolo Ce l'ha Dai Il momento Di Irving Qua Adesso Faggo un 2 Crossover E poi Partivo Eccolo Eccolo qua Vai calo Via così Si cazzo Che terrore Che avevo Mesto qua Meno 2 Oh là Si No Ecco Ho provato Cazzo Meno 4 Fai verso 4 Proviamo la banana Adesso Dai Dancing Lezioni di danza Con cari Irving Mamma mia Meno 2 Dai allora Proviamo a battere l'uomo Con Irving E poi Proviamo uno Scarico Da qualche parte Così No Vabbè Sì No Sotto Sotto Ok Sì Dommar C'è Vabbè 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 Cosa stiamo a far Qua Dai 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 Niente 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 Non mi schiaccia Eh Mica Sono da Però Boh Dai Un Falletto Dai Stiamo giocando In due Dai Bastas A few moments Later Cioè Oddio Sì Meno 15 Mamma mia Proprio andata Quinta Quinta No No La finale Manca un minuto Niente raga Allora 4-8 3-7 Il risultato finale 0-20 2 perse In questo In questo video Veramente Triste Tristezza Vabbè Ragazzi Insomma Purtroppo Vabbè Ragazzi Allora Purtroppo Non abbiamo Fatta Una bella Figura Ma Spero Vi siate Divertiti Abbiamo Fatto Quello Schiaccione Con Waiters Rimane Comunque Indenebile 11 rimbalzi Il nostro Quintetto Ha preso I stessi Rimbalzi Di Gord Bene Comunque Bene E Niente Raga Insomma Noi Speriamo Come sempre Che questo Video Vi sia Purtuto Lasciate Mi Video Con In Trevo Però Insomma Sì Dai Prima o dopo Prima o dopo Ce la faremo E niente Ci vediamo domani Con un nuovo video Bella Ciao Ciao